Con gli atti che abbiamo firmato questa mattina si riassegnano oltre 28 milioni di euro a 8 città medie della regione. Sono risorse che dimostrano quanto il programma stia andando avanti. Sono risorse che vengono finalizzate a completamenti di opere già inserite all'interno dei programmi di qualificazione urbana e sono risorse che arrivano per effetto dei ribassi a base d'asta relative a gare che già si sono concluse. Quindi una ulteriore dimostrazione che in regione stiamo lavorando bene, i programmi stanno andando avanti e anche le amministrazioni comunali stanno svolgendo un ottimo lavoro. Queste sono le prime 8 città, arriveranno a breve le ulteriori 11 ma siamo già alla seconda fase, a dimostrazione di qualcosa che come regione Campania, Giunta Caldoro e come mio assessorato stiamo predisponendo nel migliore dei modi possibili.